Internalizzazione ai servizi ASL, costruttivo confronto a Taranto con le organizzazioni sindacali per la stabilizzazione dei lavoratori, è quanto dichiara con soddisfazione Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. È una riorganizzazione dei servizi importante per molteplici aspetti, garantisce condizioni occupazionali stabili a lavoratori di lunga durata, assicura standard di qualità e di sicurezza dei servizi offerti, anche superiori a quelli attuali, e significativi risparmi per la spesa pubblica. Nell'immediato si partirà con la stabilizzazione dei lavoratori del CUP e dei servizi informatici, circa 220 unità lavorative, ma l'obiettivo della Regione è internalizzare altresì i servizi del 118, della logistica e della distribuzione del farmaco. Nel mio intervento, prosegue Borracino, ho fatto notare che la procedura da adottare dovrà essere unica su base regionale, dunque rispettare le indicazioni del Dipartimento di Promozione della Salute come delle organizzazioni sindacali regionali, poiché l'internalizzazione verrà applicata in tutte le ASL della Puglia. Ho inoltre chiesto di verificare la possibilità di procedere con l'adozione del contratto IOP, così come fatto sinora con tutte le internalizzazioni nelle ASL pugliesi. Al momento l'ASL di Taranto fa da apripista e ciò rappresenta un fatto davvero importante, soprattutto in questo delicato momento storico, per la città ionica. E conclude così Borracino, ora stiamo tracciando una strada che grazie ai presupposti normativi, giuridici ed amministrativi potrà portare quel miglioramento ai servizi resi alla collettività dal nostro sistema sanitario regionale, oltre ad un notevole risparmio di bilancio.